Innovativo, intuitivo e funzionale Studiato per garantire sicurezza operativa e ampia possibilità di personalizzazione dei parametri, il riunito NiceTouch rappresenta al meglio la filosofia miglionico incentrata sulla funzionalità e l'affidabilità dei propri prodotti. Gestire le impostazioni poltrona e strumenti del riunito è semplice e veloce grazie allo schermo Touch a colori con grafica intuitiva e alla possibilità di memorizzarla nel proprio profilo utente. L'ampio display da 7 pollici ruotabile permette di visualizzare i comandi base del riunito in tutte le schermate avendo sempre la migliore ergonomia di lavoro. Infatti sono sempre attivabili le funzioni poltrona, acquabicchiere e bacinella, il negativo scopio e l'on-off lampada operatore. Passare da uno strumento all'altro è semplice e veloce grazie al sistema Swipe per lo scorrimento delle schermate. Tutti gli strumenti sono dotati di un menu dedicato, attivabile anche con strumento non prelevato. Questa esclusiva funzione è stata studiata appositamente per permettere all'operatore di personalizzare i parametri desiderati, ottimizzando i tempi e garantendo la massima sicurezza e igiene. Il NiceTouch è dotato di base di un micromotore ad induzione che permette di operare sia in modalità conservativa che endodontica. È possibile inoltre inserire il micromotore chirurgico e il pacchetto Surgery, composto da software dedicato e sistema pompa peristaltica. Settare i parametri specifici dei micromotori, come ad esempio scegliere il rapporto del manipolo utilizzato, il numero dei giri reali, il torque, l'inversione dei giri, la gestione del flusso della pompa peristaltica. L'on-off spray e LED agli strumenti è semplice e intuitivo. In modalità endodontica inoltre è possibile impostare auto-reverse, auto-stop e auto-forward con regolazione del time di reverse. Con l'auto-forward attivo è possibile utilizzare l'esclusiva funzione Cruise Control, che permette di mantenere il micromotore attivo senza dover utilizzare il pedale. Dalla stessa schermata è possibile memorizzare le impostazioni scelte in uno dei 10 programmi personalizzabili. La pompa peristaltica per l'irrigazione esterna con regolazione del flusso in fase operatoria è utilizzabile sia sul micromotore che sull'ablatore, con funzioni di endodonzia e parodontologia. Il riunito NiceTouch è dotato anche di un cronometro gestibile dalla schermata strumento con stop sonoro, un menu per la gestione dei timer e la scelta della lingua, del blocco schermo per una facile e sicura igienizzazione del display e molte altre funzioni personalizzabili. NiceTouch, un concentrato di tecnologia per prestazioni ai massimi livelli.